Sono 5 anni a Dubai, a World Art Dubai con una delle pittrici più importanti del momento. Farò qualche domanda in inglese perché è la pittrice che è Marsha Nero, parla di solo l'inglese. La propiettione è una scritta di un'erroide. Il mio primo primo è di una domanda di un'erroide, che è un'erroide. Il ruot di un'erroide, cioè la dance, che si trova un'erroide. La promessa di una pressione di un'erroide, un'erroide. E la colorizzazione del luogo di un'erroide riguardo un'erroide. Quindi la persona guarda il colore che ci sono inizioni di color, quindi la persona guarda il colore, e la persona guarda il colore. Quindi è una cosa che guarda, quindi la persona guarda il colore, e la persona guarda il colore. Quindi questa è la Buddha, quindi è una spirituale leader, e ha un militare e una politica spirito. Quindi è stata inizia a China, Tibet e in alcuni casi di India. So in this painting it is shown Naga sitting in the common vegetation position under the arm tree. The arm tree is a spiritual tree under which it is said that it is satana. So in this painting it is his eyes are semi-closed and a small smile on his face showing that it is a mental need to see. So it shows a purpose. Ok. What's the meaning for you to paint the painting? La prima cosa è sempre come tutti gli altri, quindi ho fatto che ho fatto un po' di 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 un po'. Grazie.